Fra i tanti problemi, fra le tante segnalazioni, una buona notizia, almeno per quello che mi riguarda, in un periodo di attacchi, di intercettazioni, di processi, di denunce, la buona notizia e innanzitutto vi ringrazio per il sostegno, l'affetto, i messaggi di solidarietà e di amicizia di questi giorni e di queste ore. La giunta del Senato ha appena detto no all'ennesimo processo a mio carico, in questo caso per aver bloccato nell'agosto scorso lo sbarco di 161 immigrati dalla nave spagnola Open Arms. Hanno votato i senatori 13 a 7, anche una senatrice grillina e un ex senatore grillino hanno votato, non a mio favore perché non era un voto pro o contro Salvini, la giunta del Senato doveva decidere se il blocco degli sbarchi, la lotta all'immigrazione clandestina era un atto di interesse pubblico o se era un atto di interesse mio privato da libero cittadino. Ora è chiaro ed evidente che da ministro dell'interno il blocco degli sbarchi, la lotta agli scafisti, la tratta di esseri umani o lo schiavismo all'immigrazione clandestina era un mio dovere, non un mio capriccio o un mio diletto personale. Quindi che succede adesso? Innanzitutto grazie ai senatori che hanno votato liberamente dicendo Salvini da ministro ha fatto solo il suo dovere nell'interesse pubblico del paese e tutto il governo era d'accordo con lui, anche quel pezzo di governo dei 5 Stelle da Conte a Di Maio che oggi dice no, noi non sapevamo niente, non eravamo d'accordo, ma come? Era nel programma comune, era nell'azione comune di governo, erano blocchi concordati per svegliare l'Europa, io non ho cambiato idea rispetto all'anno scorso, qualcun altro sì, però così è andata.